Questa è benzina, io vi do fuo 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 fuogo E non stai subito ca contro, non attiva subito eh C'è un profumino di pancetta Vieni qua, vieni qua, vieni qua Vieni che ci facciamo qua i punti E vieni sulla gondola Fermo, non attiva adesso, non attiva adesso, quando stanno a chiudere Va, va, vai Anzi, vabbè Ok, perfetto, adesso vado a prendermi il pezzo Te avrei il carburante E poi dovremmo fare, eh, se c'è E che no, ci manca la corda, ci manca la corda E tu va a montare il pezzo Sali sulla rampetta e vai da là Aspettate che devo fa' Sì, vieni qua, sì, vieni qua, poi da là Ok, ok, così Vai, di qua E ci siamo, eccoci Ho il motore qui con me Ok, ho preso il motore Va, vai Ma arrivo pure io a montare il Ma non era del qua, dove sono andato? E' stupido Perché a volte si deve ricaricare la corsa No, no, non va, guarda, eh Eh, perché si deve ricaricare la corsa Deve aspettare un pochettino a volte Ma arrivo Andiamo a Milano Canafta Canafta Ok, manca un pezzo, dai Vieni qua Sembra che la fortuna inizia a girare Allora, a volte dobbiamo fare una cosa un pochettino complicata Perché si tratta dei numeri Tu devi rimanere sopra tanto Ah, si, si, ho capito Sì, ho capito Sì, scendi giù Vieni, segui, segui, segui Qua Apri qua Tomahawk Che Tomahawk? Vuol dire che siamo sulla buona strada Chissà Le munizioni scarseggiano No, non erate qua Erate qua Ok, adesso Allora No, non mi serve Devi solo rimanere qua a vedere i zombie Resistere i zombie Ah, non c'ho più al di là Devi farlo te Alla te in pratica devi Ok, vai Da sopra Oppure evo dare i zombie Come ti fanno? La fatta ammazzare La fatta ammazzare 0 9 9 09 096 096 096 9 9 Senta che tanto vado giù Ti vado a piedi pezzi Tu vasso subito Eri animati Ok, vasso Eri animati Sì, vado a piedi Bene, ho trovato la struttura Poi l'ultima pezzo Ma va che c'è sto E' sì, sì Fai, aspetta mamma, aspetta mamma, aspetta mamma Aspetta mamma E' stai, sai che hai fatto Tutto una stupidaggine Perché adesso quando ti fanno uccidere i zombie Non c'è questo Occidetevi Non cambierà un cazzo Ecco cosa bolliva in ventola Se invece ti ammazzavi così No Ogni noro Vuoi smettere di soffrire Sei fritto E cioè, se ti conviene però Aspetta mamma la riviava Prima tanto ti serve No Vabbè, tanto tu c'è lei Continua, ci spieghiamo Aspetta Adesso possiamo fare qualche passo avanti Fammi mettere il pezzo E se portassimo questa roba sul tetto Ah, non vende l'altro Ah, ma mai più rivedete Un bel armito Mamma, ma come E manco lui forse Ah, guarda che bell'aereo Vroom vroom scuderoni Scuderoni vroom vroom Aereoni Certo Poi quando mi avviso su youtube Però in scala 2 ha A un milione Cazzo no No, no, no Stava chiude Sono deficiente Usa il topo Cos'è ti serve Ti è ritornato, vedi? Allora, andiamo su No, non mi è ritornato Sì Vedi? Devi aspettare un pochettino che si ricarica Vieni su Vieni su, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua Dobbiamo andare a ripetere già Per noi vieni qua, vieni qua, vieni qua Segui, 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 segui Mi serve pure un po' di munizione Ok, aspettiamo qua E massiamo un po' di zombie E poi scendiamo Che margiano con queste Eh, dovremmo farci pure dei punti Ah, finalmente, era ora No, tu ce l'hai, c'è 5.000 Ah, devi via Vai, vai Tanto ci abbiamo i colpi per i punti Vai qua No, pietergiang Sì, ma sì, ce l'hai, ce l'hai Poi tanto è la ricarica dei colpi da sotto Mi è brutto, eh Noi irlandesi abbiamo sempre voglia di bene Tocco, facci i brutti Ci sono 35 colpi Ne conviene pure a me Allora, pieterlo là Lo so, lo so, lo so Eh, e ricarica E' allontano Ok, fatto Come dire, certe volte mi corri Guarda Ma quello li quando è qui Guardami, guardami, guardami c'è il tuo corpo in mano non c'è niente non c'è niente non so che dire mollito mister in arrivo hanno ammazzato nessuno zoom aspetta che devo andare piano oh sai che possiamo fare? possiamo attivare la trappola voglio qualcosa attiva un po' sta trappola oh panze per un momento mi si era baggata era diventata bagapanciata lo sai non mi sembrava un proiettile per un momento mi si è baggata ma l'ha ammazzata no no fatemi creare il grosso della nuova l'ha ammazzata l'ha ammazzata oh i saldi saldi vieni 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 cazzo quante volte bisogna uccidermi per farmi smendere guardate qui una mitragliatrice nuova fiammante l'ha ammazzata levati l'ha ammazzata rimatte cazzo rimatte cazzo rimatte cazzo ok che è fatta e pia pia è più forte buon sonno eterno gli hai aperto quella testa di cazzo io no ancora aspetta un seguito vabbè andiamo giù dai tanto ci facciamo il leggo vabbè su sali su sali dobbiamo sbrigarci vieni vieni muoviamoci so bravo io spigami 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 ma lo sai perchè è integore perchè tu devi andare al massimo del cammino per correre eh guarda così va bene va bene eh se vai lento certo che non te lo fa vieni qua vieni qua sali di qua sali su qua caffetteria stai caffetteria girate girate mi sei bloccato ti dico guarda 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 solo vieni qua vieni qua su la caffetteria la stella toccala di qua dove si mandati sempre qua oh qui qua di qua sali sali là arriva l'aereo queste sfigate mi stanno mettendo nel sacco e dove volevo andare scusa ti prendiamo sull'isola e sbigate andare sull'aereo che se non ti ci fanno andare no dall'altra parte dall'altra destra destra avanti 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 sali ok pronto si aspetta come faccio pronto vai sapevo che avrà funzionato oh ok porca miseria dai è pronta lanciare un uomo perché perché ti salito in alto non c'è adesso non c'è adesso due non c'è e vai guarda una certa uomo guarda 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 che fa perché non è lasciato bene precipitiamo di nuovo alla guacbar aspetta 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 che mi devo metter a caricare questi ok vai punch vai può facciare si va siamo di nuovo qua bella rega poca caccia struzza non finire e Deji mi manda un messaggio ma non posso leggerlo tre laser di un'astronauta tre laser di un'astronauta tre laser di un'astronauta faccio non posso morire un aggasso di esplosione da manuale vabbè si cacchi che c'è se sarà rotto niente forse però forse non funzionerà tempo lo so lo spieghiamo inizio come sai che non potessi prima questo qua dobbiamo usare sono l'unica via d'uscita qua sull'istrlo qua ci si può andare per niente senza rega senza rega si può si ho lito misto in arrivo flitto misto almeno ci state provando pronto si pure questo qua come scuola più dire prima di che provociammi la risoluzione si restano pochi colpi il galilea è obbligatorio devo cominciarlo perché se no non fa niente che figata lampeggia e ammazziamo questo c'è tutta sta cosa questo pippino non finisce qui e sto pure a sparare troppi colpi e mo che lo rivedremo presto che spalla qui ho tutto fuori uuuuuh di omentare un uuuuh di omentare un uuuuh di omentare di omentare di omentare per spaventarne mille sei spaventato e sei morto cazzo non è la prima volta e non sarà l'ultima no si che finimo così si che finimo così porca mia e aspettare che e che ca... non mori 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 adesso dopo non mori no 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 dai vedete oddio che culo poi ci siamo prendenti proprio appiccione qua c'è un problema però eh questo qua il casino niente più distrazioni ok vuol dire che siamo sulla buona strada ci sa no io credo comunque questo qua del... da rega va bravo spigliadelo spigliadelo a rieccole occhio è la guardia e che cacchio e che cacchio mia moglie non avete visto tornerò tutta lampa è finita perchè sento sempre questo nome non cerca non cerca di non morire più eh che cerca di non morire più aspetta non c'è non c'è non c'è come se si è giro urco se dovevano spostarsi più in là e tre laser di un astronave ok ok pensate di aver pregato il povero rimbambito poi siamo pure ritornati get a shorty stick cazzo che burda fatto male oddio fatto male e non mi spiega non mi spiega non mi spiega non mi sto in arrivo ok fatto non vedi che non cammina fammi la protezione mia non cammina non corre guardalo guardalo come va guardalo 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 ma come non va guardalo 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 ma poi perché devi eh non va no va non ne muovo più ancora è stato troppo facile Non finisce qui Niente di nuovo La solita carneficina Nicolai 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 Perché sento sempre questo nome? Va, si vengono da lui Occhio per ora Grazie Va bene Va io sto andando da solo Eri anima te Eri anima te Ma è possibile che ci ha fatto Oh ho capito Ma come fa andando da solo Ma come fa andando da solo Ha iniziato tu Di sicuro non è Ma da solo Morirà adesso Dopo Cambia poco Ma lo smetti di rompere Morirete tutti Uno dopo l'altro È matematico Andiamo avanti Chiudi lì Ora lasciatemi trovare il bastardo Che mi ha messo a capire Hai visto altri portali? Dall'altra parte Aspetta te che cerchiamo Di risolvere i problemi Aggiungere i secchi di Stefano Ma Non si conosce perché Un po' prima Non avrebbe bastato Però puoi correre Eh ma E beh comandare a generale Che te frega E si mette male Ecco E se non si fa E si sa Non si sa E se non si sa Non si sa E lo so Non si sa Come andando Ho il militano Occhio, è la guardia Mariano, non ce la fai Trovo Mariano Notti Non sapete nemmeno perché lo fanno, eh? E' stato troppo facile Allontanate da l'inizio Però puoi direzionarla Non muore, si ripete C'è, è difficile Ah, è poco di pari Meno male che Pensavo fosse finita Ma non è ancora ora finita No Non è stata un'avete un pensiero che sia un Vivo, eh? State facendo la fila per morire? Vabbè, ci abbiamo provato, sì Ma già che abbiamo fatto un anello Era tanto Sì, sì, può bastare Speriamo che questo video vi sia piaciuto Mettete like Iscrivetevi Al canale se ancora non lo avete fatto E' bella Ci vediamo al prossimo video E... E niente Speriamo questo ritorno su... Su... Su Move of Dead vi sia piaciuto E ciao Scusate che abbiamo... Non abbiamo fatto più video Ma per colpa degli esami Per lo studio Eh, sì La scuola un po' Un po' Un po' la scuola E non abbiamo potuto fare video E... Però, intanto c'è l'estate Eh? Iniziamo a fa... Iniziamo a fa' Dei molti più video Speriamo che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale E mettete mi piace E... E noi ci rivediamo al prossimo video Bella Ciao Ciao